sono il detective Alex ed io sono il detective Jason oggi controlleremo il traffico ragazzi andiamo faccia oggi controlleremo proprio tutti sì, proprio così ehi, togliti di mezzo va avanti Jason controllo della signora controllo della signora procediamo al controllo mi mostri subito la tua patente di guida ok, ecco a te questa è la mia patente ed ecco la patente di guida ok, controlliamola in auto accendi il pc e controlla questa patente, forza ok, ma prima mangiamo, non credi? ottima idea Alex dobbiamo rifocillarci lasciamola aspettare sì il lavoro del detective è fantastico ehi, sbrigati è una vita che aspetta ma che state facendo? ehi, che diuri abbiamo controllato stanno mangiando ciappelle me ne vado ma sta scappando forza, corriamo sei andata Alex ma ha lasciato qui la patente di guida però andiamo a prenderla forza inseguiamola sì sono scappata non voglio che i detective mi vedano sì è ora di fare un giro in macchina ciao ciao aspetta un minuto quella è la sua auto deve essere vicina cerchiamola Alex forza Jason sprechiamoci non mi troveranno mai Jason, dobbiamo trovarla o che figura faremo? deve essere vicina vedi qualcosa laggiù? no ma sto sognando le ciambelle guarda, guarda là wow, l'ho vista sì, andiamo è molto vicina forza sì non mi troveranno mai ti ho presa stop che succede? perché mi avete fermata? aspetta un attimo sembra un po' diversa, giusto? sì, sono un'altra persona e sono appena arrivata staremo a vedere dammi la patente di guida allora ok, eccola e non scappare io? Sara sei tu la criminale? aspetta un po' oh oh è lei via ciao non resterai qui hai capito bene sì, stop non avrai più bisogno di questa patente oh no la mia patente e ora verrai con noi ok alzati forza veloce grazie per aver guardato il nostro video e metti mi piace iscriviti mi raccomando ciao siamo arrivati e consegneremo i segnali stradali i segnali sono qui sul retro, giusto? certo che sì ecco a te Jason possiamo andare molto bene zona pedonale zona per ciclisti girare a destra questo è un segnale di stop zona di costruzione e questo è un attraversamento pedonale è tutto qui Alex? sì ora dove andiamo Jason? torniamo alla nostra auto per una nuova consegna è così grande oh wow segnali stradali voglio vederli oh Jason cos'era quel suono? non lo so andiamo a controllare Alex andiamo forza oh no e adesso che faccio? oh devo andarmene? no qualcuno ha fatto cadere tutti i segnali diamo un'occhiata andiamo no non va bene non va affatto bene forza scopriamo chi è stato la persona che l'ha fatto deve essere molto vicina sì molto credo di aver sentito qualcosa guardiamo lì dietro ehi prigioniera oh 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 prendiamola forza 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 si fermi Galeotta sono troppo veloci ma dove è andata? non lo so forse è qui sì non mi hanno visto sì che ti abbiamo vista oh oh venga subito qui no forza andiamo allora perché l'ha fatto? è stato un incidente ok ti propongo un accordo se pulirai non ti porterai in prigione ma se non lo farai ti ci porteremo davvero? sì pulisco subito molto bene ho finito detective e mi dispiace davvero sì bene molto bene niente prigione ora potete togliermi le manette? certo oh oh ma cosa sta facendo mi scusi sono la polizia stradale che bella giornata ehi fermati fermati oh mi dispiace pronto polizia ehi ferma cosi aspetto il verde anch'io sto aspettando ehi questi si che sono bravi ragazzi si si mangiamo qualche ciambella ehi che cos'è quello? oh oh si Ahahahah Ahahahah niente polizia dei semafori ciao ciao vendo semafori sì sì a metà prezzo buongiorno salve sì li vendo a metà prezzo ottimo ehi andiamo a fare un giro in macchina è un'ottima giornata per guidare andiamo di nuovo a lavorare bene ottimo ragazzi ragazzi è tutto ok ragazzi no ferma oh no oh no cosa hai fatto scusami ma non c'erano i semafori sì non l'ho visto nemmeno io no no ragazzi cosa è successo non vedi non ci sono i semafori quindi abbiamo fatto un incidente i semafori lo so chi è stato c'è un semaforo qui vendo semafori vendo semafori vendo se... oh no no oh no no oh no che ho preso oh no in prigione no tornerai in prigione in prigione no andrai dritto in prigione no di nuovo vieni forza fai il bravo no no per favore no e invece sì Jason ti ha mandato in prigione ok ok ciao 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 ciao